Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Ferio Anticinquita e vi parlo Kain Tenicard Game Ciao a tutti e benvenuti in questo bellissimo video Oggi ragazzi, come da titolo, finalmente ho finito l'album dei calciatori panini 2012-2013 Album veramente che è stato molto impegnativo perché quest'anno, avendo comprato meno pacchetti degli altri anni Mi sono trovato parecchie difficoltà perché non trovavo nemmeno gente per scambiarle Quindi ho dovuto comprarle su e bene, la maggior parte di quelle che mi mancavano ragazzi Allora, innanzitutto potete vedere questo sfondo che non ho messo lo sfondo della Roma come al solito Perché non mandavate cambiare tutto e che ci metto un'eternità Vi farò giusto vedere l'album, come potete vedere la telecamera è spostata un po' più indietro Così che l'album lo posso sfogliare così ed è più facile Vi direi subito di iniziare a farvi vedere l'album Allora, qua vabbè troviamo tutte le coppe Allora, spostiamolo un po' più qua così riesco a farvi vedere tutte le pagine Qua troviamo l'Atalanta, qua è tutto completo ragazzi Poi l'altro giorno è uscito lo sprint del campionato Che io ho già attaccato, non ho voluto fare il video perché tanto era inutile Tanto ve lo faccio vedere adesso Continuiamo con l'Atalanta Bologna Continuiamo Bologna Cagliari Poi ragazzi, io sono della Roma e non ci crederete Ma l'ultima squadra, cioè l'ultima figurina che ho attaccato è stato Osvaldo Quindi potete capire, capito? Mi mancavano quattro della Roma E alla fine è proprio quello Mi mancavano, guarda Le ho attaccate alla fine, le ultime quattro della Roma Andiamo un po', Fiorentina Ora ci dovrebbe essere il Genoa Genoa Inter Vabbè, continuiamo Juventus Buffon inguardabile con Italia-Brasile Mamma mia, meglio che non parlo Dove metto i guanti per sta pagina Milan Io sono simpatizzante del Milan, lo dico Napoli Vi faccio giusto vedere sto alla Serie A, raga Perché poi io do una sfogliata veloce Tanto dalla Serie B non frega niente a nessuno, sono sicuro Anche se io il prossimo anno, ragazzi Ti ferò Sassuolo Perché io era da una vita che volevo che il Sassuolo andava in Serie A Mamma mia, raga Io al Sassuolo Quando giocavo a FIFA mi piacevo sempre il Sassuolo Non so perché, però mi piaceva, non so Ecco la Roma, ragazzi Finalmente Completata anche la Roma Veramente stupenda Centro dell'album, eh, la Roma Sempre al centro Totti, l'abbiamo visto Sampdoria Continuiamo Siena Album veramente molto, molto bello, ragazzi Veramente molto bello Quest'anno fanno vedere i presidenti E le magliette L'anno scorso facevano vedere i pulmini Gli spogliatoi Comunque c'hanno sempre di tanta fantasia E qui, ragazzi La primavera team Niente Lo show dei gol Vi faccio vedere anche questo Che sono molto belle Hanno avuto anche una bella invenzione Quest'anno a creare queste qua Molte belle Poi continuiamo con Ecco Il film del campionato La corsa d'inverno E lo sprint dello scudetto Allora ragazzi Come potete vedere qua Ho finito tutto Lo sprint dello scudetto Ho comprato le figurine Esattamente Il 17 giugno 2013 E niente Questo è il 4 febbraio Come potete trovare Qua abbiamo la terza classificata Serie B Seconda classificata Serie B Campioni d'Italia Juventus Campioni d'Italia Coso Antonio Conte L'uomo dell'anno Vidal Bomber Cavani E alto rendimento Balotelli Qui ragazzi Abbiamo finito Ci sta anche Totti Alto rendimento Nella prima fase Del campionato E niente Sassuolo Campioni d'Inverno Di Serie B Win L'hanno messi Meno male Poi vabbè Qua ragazzi Giusto per farvi vedere Che è tutto completato Tanto È tutto completo L'album Senza me faccio sfogliare Tutte queste pagine Tanto non fregano niente A nessuno Vedete un po' La Lega Bro La prima divisione Girone B Un po' di robetta Quindi L'album è finito Il calcio che cambia Qua abbiamo Un po' Le 17 regole del calcio La serie a femminile Sì ragazzi Ha finito tutto Senza vi faccio vedere E niente Anche quest'album Ragazzi è finito Mi raccomando Mettete un like E un commento Per questo video Iscrivetevi Io ricambio sempre E niente Il prossimo anno Ho intenzione Di comprare Esattamente 100 pacchetti Dell'album Di calciatori 2013-2014 Ho già Intenzione Di comprare 100 pacchetti Ragazzi Fanno 10 parti Ognuno Da 10 pacchetti E' già tutto Programmato E niente ragazzi Io mi invito A lasciare un like Come al solito L'ho già detto E niente La ferie Un'antice in guida È tutto Bella E niente E niente ragazzi E niente ragazzi E niente ragazzi